Ed è avvilente, concludo dicendo una cosa, trovo sconcertante che ad inizio, con le urne già aperte per la Presidenza della Repubblica, Draghi si svegli e si renda conto che c'è da eleggere un Presidente della Repubblica, ma lui non lo sapeva quando è arrivato un anno fa a Palazzo Chigi, adesso lui aspira a Quirinale, ma che io sappia si sapeva già da prima che c'era questa scadenza o lo sapevamo soltanto in pochi? Lui non lo sapeva, è arrivato ieri a convocare i partiti e a decidere che lui deve andare al Colle, non lo sapeva prima? Stiamo perdendo altre settimane di tempo per l'ambizione di Draghi e per la sua inefficacia da questo punto di vista, perché non ha previsto nulla e non ha organizzato e programmato nulla. Insomma il suo giudizio, ma questo già ce l'ha detto in altre occasioni, è molto severo nei confronti di Draghi.